Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess, velocissimo volevo farvi vedere questo nuovo Moto Mod per Lenovo Moto Z. Come sapete i Lenovo Moto Z hanno la possibilità di avere un'aggiunta di potenziamenti, chiamiamoli così, c'è già il Lusselblood, c'è già l'altro componente che è stato sviluppato insieme a JBL e adesso nasce questo, semplicemente mettendoli insieme in questo modo potete avere una specie di controller per i vostri giochi preferiti. In questo caso sto giocando con Real Racing 3 e vi faccio vedere un po' come funziona il pad. In questo modo avete l'accelerazione sulla parte destra e con lo stick potete andare a destra e sinistra. Questo è in sostanza come funziona il Moto Gamepad. La particolarità è che al suo interno ha una batteria da 1.035 mAh, quindi è autonomo e sulla parte posteriore troviamo la Ypsilon che contraddistingue tutti i prodotti della categoria Legend di Lenovo. Non guardate il design in questo momento perché è semplicemente un prototipo, non è la versione definitiva, verrà venduto sul mercato a 79,99€. E niente, mi sembra una cosa molto molto carina che potenzia il vostro smartphone, il vostro Moto Z o Moto Z Play, in questo caso invece abbiamo il Moto Z2, mi sono dimenticata di dirvelo, una potenza per aiutare tutti i videogiocatori a giocare in modo più agevole anche con lo smartphone. A me sembra un'idea molto carina. Intanto voi seguite tutti i nostri video delle 3 2017 e mi raccomando iscrivetevi al canale. Baci e abbracci, ciao!